E' un gabbiano, è un gabbiano, è proprio un sacco strano. Guarda, tutti questi tetti sono collegati, no? Questi qua. Quindi secondo me pure questi, no? E' un maschio, è una gallina maschio. Come si chiama? Perno. Quella è una grotta. E dentro la grotta ci vive un grandissimo gigante. Ehi, che cosa fai? Torna indietro, ti mangierò vivo! Hai detto tu che sono un esploratore dei tetti, no? Qui sono teco. Paolo, paolo. Che cosa vuoi andare? Ora. E' una buona questione. Non so. Come se tu scappi. Io, re di scuole, sono tutte mie. Ciao. Come se tu scappi. Io, re di scuole, sono tutte mie. E' una buona auden. E la buona auden. Come se tu care? Grazie.